Barba Nera, ecco il vero lunario Barba Nera! Il Barba Nera gli arrivava ordinariamente verso i primi di novembre ed egli stava in ansiosa aspettativa fino ai primi mesi dell'anno nuovo rileggendo di tratto in tratto le terribili pagine che annunziavano tutti i guai dell'annata, mese per mese e che secondo lui non mancavano mai di avverarsi. Grazie a tutti!